Oggi insieme alla scuola, l'Unicef e l'Istat, abbiamo parlato della diversità tra di noi, dei diversi abbigliamenti, dei tatti somatici, disabilità fisiche o mentali, le religioni, le lingue, sul lavoro, gli immigrati, dove abiti, la nazionalità, sulla vita quotidiana, ma soprattutto sulle varie culture. La giornata della statistica italiana ed europea del 20 ottobre sarà l'occasione per coinvolgere e dialogare con i giovanissimi, i cittadini di domani. Li coinvolgeremo direttamente nella progettazione di un'indagine che li riguarda, proprio per individuare le domande, gli interessi, il loro futuro. I ragazzi oggetto e soggetti della produzione dei dati statistici e anche della loro prima analisi, mi è sembrata una giornata istruttiva. Abbiamo imparato tante cose. Imparare a rispettare la diversità e a comprendere che non è sempre una cosa negativa. La partecipazione e l'ascolto sono principi cardini nella nostra azione per coinvolgere i ragazzi e soprattutto per applicare quelli che sono i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, così come indicate dalla Convenzione. Queste iniziative che realizziamo in collaborazione con l'Istat ma proprio nel senso di dare un protagonismo ai giovani. I numeri contano ed è importante questo perché ogni bambino conta, non dobbiamo mai dimenticarlo.